Oh boy, che trailer! Che storia ci aspetta! Spiegazione time? Yes! Ci ritroviamo a Nagasaki, alla Nagomohara Junior Aig, in un ambiente abbastanza rurale, di cui stesso Akiro Hino voleva dedicare un ambiente ad un linguaggio più dialettale, ma che effettivamente sarebbe stato riscontrato in problemi di poca comprensione. Un Mei Sasanami è un ragazzo che letteralmente odia il calcio, dovrebbe sparire dalla faccia della terra, è l'esatto opposto del protagonista classico di Nazume Leven, abituati agli yes-men, ora invece... Cioè ci stai ribaltando la situazione! È un nuovo studente alla Nagomohara, e dopo aver conosciuto alcuni suoi compagni di scuola, si ritrova in una colluttazione con Suruga Yagyu, con all'interno di tutto ciò la questione del campo. Reminding al rugby di Nazume Leven 1? Forse però quello che più sorprende è il suo rapporto con Joji, che nonostante il brutto rapporto col calcio, non può fare a meno di vedere il suo compagno dare il meglio per se stesso in quel maledetto sport. Quindi un po' una sindrome di Stoccolma, Sasanami? Beh, lo odiavi il calcio. Ora perché ti si è interessato, eh? Tra altre presentazioni, come quella di Renzukikage, come capitone della Raimon, spicca anche la comparsa di Endoharu, che post prima partita, contro proprio la Nagomohara, reputa il calcio... noioso! Il completo opposto di suo padre! Sembra una questione Roya a Raimon. Ah, i ricorsi storici. Però non guardate solo la storia, ma anche la dettagliosità dei lamentazioni, su come effettivamente il giocatore può muoversi. È stato fatto un lavoro maniacale. E stesso Ino, ammesso che per raggiungere questo livello, ha dovuto lui stesso pensare a rivolutare l'ambiente, ed anche la storia in sé, per renderla emozionante pure per se stesso. Inoltre ha dovuto pensare alle voci, ha dovuto fare 35 diverse audizioni per le voci di Sasanami Haru, ma finalmente ha trovato delle voci perfette per loro, che verranno presentate all'Inazuma Walker del 23 settembre. Ribadito il sistema di gioco, presentata alla team song di Victory Road, chiamata Smile is the Goal, interpretata dagli infiniti T-Pistons. Però, data l'uscita... È vicina, ragazzi. È vicina. Lo sviluppo del gioco è alle battute finali. Ino l'avrebbe già ammesso da tempo se ci fossero stati problemi con lo sviluppo, ma è vicina l'uscita. L'annuncio era presto. Forse al Tokyo Game Show, ma è vicina. La mia supposizione si rifugia nel primo quadrimestre del 2024. Ma insomma... Tutto è possibile. Lo avete visto come il gioco da questo Pv3. Date le vostre conclusioni. Con questo, vi dico che il video è finito. Grazie a chi è passato in live oggi pomeriggio. Grazie per avermi permesso di stare così bene con quello che faccio. Mi dispiace essere venuto così in ritardo, ma anche emozionarmi così di sana pianta. Ma capitemi, tra tutto quello che mi succede, cerco sempre di fare il mio meglio, almeno di riportare notizie. E scusatemi comunque anche per le emozioni che sono uscite fuori, appunto, in quella live. Solo una cosa vi chiedo in cambio. Di iscrivervi, mettere like, abbonarvi se volete. E insomma, ci vediamo nei prossimi giorni con tante altre notizie da analizzare. A presto!